No, guardi il luogo dove siamo. A Firenze vi rispondo a Firenze, diciamo. Ellie Schlein oggi nel borgo di Rondine si rifiuta di rispondere alle domande di natura politica sulle alleanze rispetto alle amministrative, ma appunto rilascia una sua dichiarazione su questa visita e soprattutto sul fatto di aver accolto l'appello proprio di Rondine, cittadella della pace, per quello che riguarda proprio anche il confronto politico. Oggi più che mai, nel giorno della festa dell'Europa, fosse per noi importante cogliere l'appello che Rondine ha inviato alle forze politiche tutte a fare una riflessione su questo, in questi tempi di guerra che preoccupano l'Europa e preoccupano il mondo e preoccupano le nuove generazioni, soprattutto anche in politica, e io da segretaria del PD lo accolgo in pieno questo appello, imparare anche nella dialettica quotidiana ad avere di fronte avversari e non nemici. Quindi, Franco, io la mia disponibilità per quello che il PD potrà fare in questa direzione ve la do e sono venuta volentieri a darvela di persona. Un appello a cui hanno aderito anche il ministro Valditara, il ministro Salvini, che probabilmente visiterà Rondine dopo le elezioni, e altri segretari di partito. Tanto abbiamo già l'annunciata visita di Matteo Salvini, che forse non viene prima delle elezioni, verrà subito dopo, però ha già scritto di grande interesse e di iniziare anche una relazione, se nascerà questa stima più ravvicinata. Abbiamo anche già apprezzamenti molti con il ministro Valditara, che arriverà un messaggio a altri leader dei vari schieramenti, dei vari partiti, quindi abbiamo anche dalla segreteria di Fratoianni, abbiamo avuto un apprezzamento molto forte, da Ferdinando Casini, insomma so che arriverà da Maurizio Lupi una bellissima risposta molto pensata e molto ragionata. Non so se oltre alla lettera vorranno fare i postini, vorranno venire anche a portarcela. Noi siamo aperti, un caffè non si nega mai a nessuno, Rondine è la casa di tutti, e oggi siamo molto felici che stanno arrivando a delle disponibilità concrete a fare il nostro progetto, cioè avversari sì, nemici mai. La Schlein, lasciando il borgo di Rondine, però rimarca la sua idea di Europa. Le più grandi sfide del futuro, sia l'emergenza climatica, l'elusione fiscale delle grandi multinazionali, mentre i lavoratori e le imprese sono tassati più del 30%, sia le guerre, quindi la costruzione di pace, sia il contrasto alle diseguaglianze, sono tutte sfide che non si possono più risolvere entro i ristretti confini nazionali. Chi racconta il contrario mente e invece noi siamo per più integrazione, ma anche un'Europa più sociale, quindi più vicina ai bisogni delle persone. Più integrazione in Europa e in Italia, no alla disintegrazione dell'Europa e, ahimè, dell'Italia con l'autonomia differenziata su cui sta spingendo questa destra. Grazie a tutti.